P&L Systems Washroom è il letto di presentarvi la gamma premium di asciugamani elettrici. Gli asciugamani di gamma premium di P&L Systems Washroom uniscono un'altissima qualità con praticità ed efficacia. Con tempi di asciugatura ultra rapidi ed un'elegante ghiera in acciaio inox satinato, questi asciugamani sono uno splendido complemento ai moderni servizi igienici. La gamma comprende due modelli, uno da 1600 e un altro da 1000 Watt, che offrono agli utilizzatori sensibili ai risparmi energetici una soluzione tanto ecologica quanto economica. Se consideriamo come riferimento il consumo medio di energia elettrica, gli asciugamani ultra fast dry di P&L Systems Washroom permettono un risparmio fino al 70% sui costi in bolletta d'elettricità rispetto ad un modello di asciugamani tradizionale e fino al 97,5% rispetto all'uso di un tradizionale distributore di carta. L'asciugamani da 1600 Watt offre un tempo di asciugatura compreso tra i 12-15 secondi, mentre il modello da 1000 Watt ha un tempo di asciugatura compreso tra i 14-17 secondi. L'asciugamani da 1600 Watt è dotato inoltre di una luce a LED blu che serve a posizionare le mani nel luogo corretto per un'asciugatura ancora più rapida. Il modello compatto da 1000 Watt è ideale per servizi igienici dove ci sia poco spazio e disposizione. Entrambi gli asciugamani della gamma premium con attivazione automatica sono inoltre realizzati in materiali robusti che li rendono ideali per servizi ad alta frequentazione. P&L Systems Washroom vi garantisce la qualità durata nel tempo dei suoi prodotti con 5 anni di garanzia sul modello da 1600 Watt e 3 anni di garanzia sul modello da 1000 Watt.